Il meeting su Aldo Moro ha riscosso molti consensi nella sala caldora dell'Università della Calabria. Moro è stato rapito e ucciso da persone che lo hanno confessato. Questa è stata l'introduzione nell'intervento di Ciriaco De Mita, segretario della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio negli anni Ottanta. In occasione proprio del convegno svoltosi sabato mattina, Aldo Moro e l'intelligence, il senso dello Stato e le responsabilità del potere. La manifestazione è stata anche incrodotta dal rettore Gino Crisci ed è proseguita con la relazione del professor Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell'Ateneo Calabrese. Tra i vari relatori si ricordano anche gli interventi del senatore Luigi Zanta, degli storici Vera Capperucci, Giacomo Pacini, Andrea Ambroggetti, Francesco Maria Biscione e Virginio Ilari. Un'occasione quindi per riflettere su quanto accaduto in Italia e che di riflesso porta a tanti interrogativi anche nel presente. Mario Caligiuri, un importante convegno su Aldo Moro. Qual è il senso dell'ex statista nel 2017 che ha lasciato? Parlare di Aldo Moro e l'intelligence significa parlare di argomenti fondamentali nella storia d'Italia perché bisogna comprendere che l'intelligence è uno strumento strategico per garantire il benessere e la sicurezza del paese. Aldo Moro è stato un protagonista della Repubblica e nei vari ruoli che ha ricoperto ha conosciuto gli uomini dell'intelligence, ha usato questo strumento nell'interesse nazionale. Questo è il messaggio che dall'Università della Calabria parte all'Italia.